Sei gucken a noi ma? se noi corriamo prima ti sei culo! non lo so, qualcuno! il minimo è come se fa salム e girare il motore può lasciarlo, lì inizioni da parte vai gi eggs interesting in derogare unaוza di tante, porca miseria! qua sto giocando dai dai ecco ecco è ancora la femmina bravo il tuo trattato è il culo ah guarda ma il tuo trattato è il culo si posizione sta sparando è il scemo in posizione in posizione che cazzo guarda non ce la contorniamo guarda 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 guarda